Un angolo verde protetto per salvaguardare la biodiversità e divulgare la storia del nostro territorio. È stato inaugurato oggi nel giardino del complesso di San Micheletto l'antico pomario, un frutteto speciale con 81 cultivar differenti, realizzato grazie alla sinergia fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e le competenze del professor Paolo Emilio Tomei. Docente di Fitogeografia all'Università di Pisa per oltre 30 anni, è stato Tomei a curare l'intero allestimento del pomario e le sue varie fasi di implementazione. Raccoglie cultivar antiche che spesso possono scomparire, questo invece è un piccolo presidio per mantenere questa biodiversità. Salvaguardare antiche specie a rischio, ma al tempo stesso ripercorrere la storia della città di Lucca, segnata da due importanti personalità femminili. Della Baciaocchi e successivamente di Maria Luisa di Borbone che si sono dedicate anche nell'introdurre nei loro giardini una serie di cultivar nuove e quindi questo rivestono interesse storico e poi anche un aspetto didattico. Molti non conoscono queste antiche cultivar che si vengono qui le possono vedere con facilità. Parole cui si associa il Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Raffaele Domenici. Infatti, in occasione della Tre Giorni di Vertemura, la Fondazione aprirà i cancelli che collegano il giardino di San Micheletto all'Orto Botanico, per consentire visite guidate al pomario e alla collezione di camelie adiacente allo stesso frutteto. 19 esemplari, fra cui la cosiddetta Principessa Baciocchi, camelia dedicata a Elisa Bonaparte.